Ma l'hai visto il Milan ieri sera? Secondo me il secondo gol era fuori gioco. Ventura? E' arrivato Ventura? Buongiorno. Buongiorno. Laia? Ventura. Claudio Ventura. Laura con il massimo di voti, stage all'estero. Un ottimo curriculum direi. Davvero? Guardi, lei è esattamente quello che stiamo cercando. Ma è splendido. Anche lei è splendido. È single? Guardi che non ci sto provando con lei, non si fa certe strane idee. È semplicemente per capire se lei è adatto al lavoro. No, sono finanzato. Ah, peccato. E da quanto? Due anni, mi scusi, ma perché? Vede, lei ancora non lo sa, ma presto la sua donna le chiederà di sposarla. E quindi? Beh, lei ha 32 anni. E si sa che cosa vuole un uomo a 32 anni. Mi scusi, continuano a capire. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. L'orologio. Io non porto l'orologio. L'orologio è biologico, Ventura. Avanti, lei presto mi farà un bambino e mi andrà in paternità. No, guardi, questo non è proprio previsto. Anche se dovesse capitare, con la mia compagna è una tipa piuttosto moderna, ecco, ce ne proveremo a 50 e 50. Sì, siamo moderni, quindi... Dite tutti così, però poi si sa come vanno a finire le cose, no? Voi ce l'avete nel sangue, l'istinto di accudire, preparare da mangiare, portare avanti la casa. È maschio. Non lo dico io, lo dice la scienza. Guardi, io le posso mettere per iscritto, che è un figlio. Non lo farò. La prego. Mi compri una cintura di castità. Mi faccio una vasectomia. Le faremo sapere. No. Allora, amore, com'è andata? Amore. Certo che quando le tue cose sei proprio intrattabile. Certo che quando le tue cose sei proprio, è un figlio. Grazie a tutti